Amici, amici telesmundiani, sempre qui, sempre qui, carissimo Master Waddera, ti strongo, ti strongo, allora, 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 ritorno di nuovo, ritorno di nuovo con i Super D-Sync per distruggere tutti, allora, 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 innanzitutto Master Wadder adesso non se lo calcola più nessuno, anche prima non se lo calcolavano, però adesso di più, di più, è sparito, è sparito, era il personaggio che dissavo di più, ragazzi, un paio di anni fa, se vi ricordate, e adesso, proprio, è sparito, è sparito, fa i video, però non lo calcola nessuno, fa mille visite ad ogni video con un canale, non so, ventimila iscritti, ragazzi, non lo seguo da tempo, l'ho visto un paio di settimane fa, e ho detto, è sparito, è sparito, perché volevo fargli dei dissing, questo, ragazzi, diciamo, è un dissing, conferma che quei dissing che gli facevo, ragazzi, sono stati, eh, perfetti, perfetti, avevo ragione, che era un buffone, ragazzi, parla del nulla, parla del nulla, poi è un dopato, è un dopato e si vede, e si vede, ragazzi, se magari adesso non si dopa, o si sta facendo, eh, la cura di testosterone, ragazzi, quella, la base, perché, ragazzi, se lo prenderà a vita il testosterone, Master Waddera, però, eh, eh, ragazzi, all'epoca faceva i cicli, ragazzi, con dosaggi altissimi, con dosaggi altissimi, devi dirla la verità, io ti strongo, Master Waddera, ti strongo, ti ho strongato, e che ti continuo a strongare, Poi, 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 l'altro personaggio che è sparito era Scheraggi, coincidenza che, ragazzi, eh, Scheraggi e Master Waddera erano i più dissati della nostra web tv, vi ricordate, ragazzi, ho migliaia e migliaia di fan talismundiani che all'epoca seguivano i miei super dissing a Master Waddera e a Scheraggi, Scheraggi e Waddera erano i più dissati del mio canale, coincidenza che Scheraggi direttamente proprio è sparito, è sparito, e Master Waddera continua a fare qualche video ogni tanto, però, si può dire che è sparito perché non se lo calcola più nessuno, ha quei mille sfigati che di tanto in tanto lo seguono, però, ragazzi, zero visite, zero visite, non ha più visite sul canale, non ha più visite sul canale, e secondo me fra qualche anno, perché continueranno sempre in netta discesa, pure lui sparirà e cancellerà direttamente il canale, ragazzi, profezia talismundiana che cancellerà il canale, vedremo, vedremo, allora, li strong, li strong a tutti, chi inizia a scrivere i commenti, ragazzi, segnalatemi tutti i vari canali dei vari buffoni della Fitness Italia che si meritano i dissing, ringrazio il profeta della verità che ha condiviso il nostro dissing a Federico Sanna, amici, il profeta della verità è un kink, è un profeta kink, ragazzi, si può dire che il profeta della verità è uno dei profeti che fa parte pure del nostro telesmundianesimo, che è la nostra religione, amici, a presto farò anche qualche video sulla nostra religione, vi consiglio di vedere i video del telesmundianesimo sul canale Telesmundo Plus, vedete tra i canali correlati l'altro canale, e iscrivetevi al canale d'emergenza Telesmundo Plus, che è un canale, ragazzi, con vari video dove parlo del telesmundianesimo, almeno capite la nostra religione com'è, ok? Arrivederci!